L'organizzazione è un'organizzazione che non mi aspettavo, nel senso che ho visto una realtà soprattutto molto dinamica, molto coinvolgente, quando c'è dinamismo c'è curiosità, c'è voglia di imparare, c'è voglia di migliorare e penso che sia questa la cosa importante. Io se posso dirvi un aneddoto nella mia ormai lunga carriera, non perché abbia fatto una lunga carriera, perché ormai sono vecchio, ho insegnato due anni in Brasile, in tempi non sospetti, nel 2000-2002, e nello stesso tempo insegnavo in Italia e in Francia e vidi negli studenti brasiliani un qualche cosa che non avevo mai notato negli studenti europei, vidi questa voglia di conoscere, questa voglia di sapere, questa curiosità, questa dinamicità che è un po' la cosa che ho visto oggi, e ho detto il Brasile diventerà un grande paese, in effetti il Brasile è diventato proprio un grande paese, perché è la gioventù che è il motore, poi alla fine del tessuto sociale, e qui ho ritrovato un po' più in piccolo, perché il Brasile è un paese immenso, ovviamente più in piccolo, però ha lo stesso spirito. Cosa dire dai miei colleghi? Ovviamente non posso che dire bene, ho ritrovato un collega che venne da una scuola di un mio caro amico che è Gilles Cometti, che abbiamo perso qualche anno fa e che ho rivisto con piacere, e soprattutto ho visto una cosa che mi ha fatto particolarmente piacere, che la sua scuola di pensiero è sopravvissuta a lui, e quindi è una sorta di eternità, e penso che Gilles, che sicuramente ci vedrà da lassù, non potrà essere che contento di questo, e un'ultima cosa, abbiamo ricordato con un grosso applauso un grande personaggio che ha dato tanto allo sport italiano, che è Enrico Arcelli, e sono sicuro che anche lui da lassù ci ha sentito e apprezzato. Grazie di tutto.